E per vedere il video senza interruzioni pubblicitarie, abbonati al canale. Buona visione! Dopo la quarta iniziazione non resta molto da compiere. Il dominio del sesto sottopiano procede rapidamente e la sostanza dei sottopiani superiori del piano buddico è coordinata. L'iniziato è ammesso ad una comunione più stretta in seno alla loggia e il suo contatto con i deva è più completo. Egli sta esaurendo rapidamente ogni risorsa dell'aula della saggezza ed è padrone dei piani più complessi. Ha perfetta conoscenza del colore e del suono. Dirige la legge nei tre mondi e può mettersi in contatto con la monade più liberamente di quanto la maggioranza degli uomini possa farlo con l'ego. Svolge anche un vasto lavoro. Insegna a molti allievi, collabora a molti piani, riunisce i futuri collaboratori. Questo vale solo per quelli che rimangono per aiutare l'umanità su questo globo. Accenderemo più avanti ad alcune attività che si prospettano all'adepto che lasci il servizio della Terra. Dopo la quinta iniziazione l'uomo è perfetto per quanto riguarda l'evoluzione di questo schema, sebbene li possa, se vuole, conseguire altre due iniziazioni. Per conseguire la sesta, l'adepto deve seguire uno studio profondo dell'occultismo planetario. Un maestro esercita la legge nei tre mondi, mentre un Choan della sesta iniziazione esercita quella nella catena a tutti i livelli. Un Choan della settima iniziazione esercita la legge nel sistema solare. Sarà evidente che il serio studio di questi soggetti permetterà allo studente di trovare molte cose che lo riguardano personalmente, sebbene la cerimonia dell'iniziazione possa essere ancora molto lontana. Con lo studio del processo e del proposito potrà rendersi conto che il metodo dell'iniziazione riguarda la realizzazione della forza, l'applicazione della forza e l'utilizzo della forza. L'iniziato di ogni grado, dall'umile iniziato del primo, che per la prima volta viene in contatto con un tipo di forza specifica, fino al Buddha liberato di settimo grado, tratta con qualche tipo di energia. Gli stadi di sviluppo dell'aspirante si possono così descrivere. Deve divenire consapevole mediante la discriminazione dell'energia o forza del proprio sé inferiore. A quel ritmo di energia deve imporne uno superiore, fino a che il ritmo inferiore non sia sostituito da quello superiore e il vecchio metodo di esprimere l'energia scompaia completamente. Allora, grazie a realizzazioni sempre più vaste, gli è concesso entrare in contatto con certe forme di energia di gruppo e sotto una guida farne uso fino al momento in cui sarà in grado di usare scientificamente la forza planetaria. La durata di questo stadio finale dipende solo dal progresso nel servire l'umanità e dallo sviluppo dei poteri dell'anima che sono conseguenza naturale dello sviluppo spirituale. Alle prime due iniziazioni l'applicazione della verga iniziatica da parte del bodhisattva mette l'iniziato in grado di controllare e utilizzare la forza del sé inferiore, l'energia veramente santificata della personalità nel servizio. Alla terza iniziazione l'applicazione della verga da parte dell'unico iniziatore rende disponibile in modo molto più ampio la forza del sé superiore o ego e sprigiona sul piano fisico tutta l'energia accumulata durante numerose internazioni nel corpo causale. Alla quarta iniziazione è possibile usare l'energia del proprio gruppo egoico a beneficio dell'evoluzione planetaria e alla quinta iniziazione si dispone della forza o energia del pianeta in senso esoterico e non semplicemente la forza o energia del globo materiale. In queste cinque iniziazioni due grandi esseri, dapprima il bodhisattva e poi l'unico iniziatore, il signore del mondo, Sanat Kumara, sono gli Ierofanti. Dopo queste cerimonie, se l'iniziato deciderà di conseguire le sue due ultime iniziazioni possibili in questo piano solare, verrà usata un'energia ancora superiore, espressione dell'unico sé cui si può soltanto accennare. Alla settima iniziazione, gli Ierofanti è colui del quale Sanat Kumara è la manifestazione, il logos del nostro schema sul proprio piano. Alla sesta iniziazione usa la verga iniziatica ed impartisce, giuramento segreto, un essere che è l'espressione di quella esistenza su un piano intermedio, un essere che attualmente deve restare innominato. In queste tre espressioni del governo gerarchico, Sanat Kumara, alla periferia dei tre mondi, colui che non si nomina ai confini dei piani superiori dell'evoluzione umana e lo spirito planetario stesso allo stadio finale, abbiamo le tre grandi manifestazioni del logos planetario. All'ultima delle iniziazioni maggiori, attraverso il logos planetario, fluisce il potere del logos solare. Egli rivela all'iniziato che l'assoluto è coscienza nella sua massima espressione, sebbene allo stadio umano l'assoluto debba essere considerato come non coscienza. Ognuna delle iniziazioni maggiori non è che la sintesi delle minori, e solo chi cerca di espandere sempre più la propria coscienza nelle vicende della vita quotidiana, può sperare di raggiungere quelli stadi finali che sono il culmine dei precedenti. Si rinunci all'idea che basta essere molto buoni e altruisti per trovarsi un giorno improvvisamente al cospetto del grande signore. In tal modo si antepone l'effetto alla causa. Bontà e altruismo nascono dalla comprensione e dal servizio, e la santità del carattere è il frutto dell'espansione di coscienza che l'uomo attua entro se stesso con streno sforzo. Perciò è qui e ora che l'uomo può prepararsi all'iniziazione, non poggiando sull'aspetto cerimoniale come molti fanno nelle loro affrettate anticipazioni, ma lavorando sistematicamente e tenacemente al costante sviluppo del corpo mentale, seguendo l'arduo processo di dominare il corpo astrale affinché sia messo in grado di rispondere a tre vibrazioni. Quella dell'ego, quella del maestro, quella dei fratelli, ovunque si trovino. Egli diviene sensibile alla voce del sé superiore, esaurendo così del karma sotto la guida intelligente dell'ego. Per suo tramite diviene cosciente della vibrazione emanante dal maestro, impara a sentirla sempre meglio e a rispondervi in modo sempre più completo. Infine diventa più sensibile alle gioie, ai dolori, alle preoccupazioni di coloro che avvicina quotidianamente. Li fa propri, ma non ne viene intralciato.